A Gropoli, operazione della Guardia di Finanza, frode da un milione di euro, clonavano carte di credito. Ospedale di Polla, da oggi al piano terra la nuova cappella realizzata grazie al sostegno della Fondazione Montepruno. Padula, macro regione autonoma del Sud Italia, lunedì 15 aprile se ne parlerà con Stefano Caldoro. DAT, il registro del Vallo di Diano è presente anche nel comune di Monte San Giacomo. Sant'Arsegno, 14 aprile, via Crucis Vivente nella Chiesa Madre. Buonasera e bentrovati alla TG di Uno News. In apertura c'è la cronaca. Una frode fiscale per oltre un milione di euro attraverso la clonazione di carte di credito. Sono questi, in estrema sintesi, i dettagli dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno che ha portato all'arresto di tre persone per reati di associazione a delinquere, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, sostituzione di persona, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio. Ad opera dei finanzieri della compagnia di Agropoli che nell'ambito di attente indagini partite nel 2018 attraverso pedinamenti, analisi dei flussi finanziari hanno accertato l'esistenza del sodalizio criminale ideato da due persone residenti nella provincia di Avellino a cui poi si è aggiunto una terza persona residente nella provincia di Salerno. Questa mattina è quindi scattata la vasta operazione con circa 60 militari della Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Vediamo i dettagli nel servizio. Un sodalizio criminale specializzato nella clonazione di carte di credito attraverso svariate attività di phishing telefonico e di hackeraggio per ottenere fraudolentemente i dati personali e bancari dei titolari delle carte. Una frode da oltre un milione di euro. Tre persone sono finite in manette con l'accusa di associazione per delinquere, indebito, utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, sostituzione di persona, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sono stati militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno su disposizione del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania a notificare questa mattina nelle province di Salerno e di Avellino il provvedimento che dispone l'arresto in carcere di Giuseppe Manzi di Avellino, Alessandro Lombardi sempre di Avellino ed Emilio Ascoli residente nella provincia di Salerno. Perquisite le abitazioni di altre dieci persone, pure esse indagate a vario titolo per la stessa frode, sequestrati i conti correnti, un'imbarcazione e tre autovetture di pregio per un importo complessivo superiore ad un milione di euro. Tra queste ultime anche una fiammante Ferrari California Cabrio del 2009 del valore di 130 mila euro. L'attività investigativa iniziata nel 2018 con l'esecuzione di pedinamenti, analisi dei flussi finanziari, intercettazioni telefoniche ed indagini bancarie e delegate della Procura Vallese hanno consentito alle fiamme gialle agropolesi di delineare il ruolo di ciascun soggetto dell'organizzazione criminale. In particolare è stato accertato che Alessandro Lombardi era incaricato di reperire i dati delle carte di credito, sfruttando le proprie competenze informatiche o addirittura acquistandole ad un prezzo medio di 35 euro per ogni carta. Per ottenere i dati anagrafici, i numeri di cellulare abbinati alle carte, l'uomo effettuava telefonate all'ufficio anagrafe in tutta Italia, ai call center delle banche, sostituendosi ai titolari delle carte o addirittura spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri. Le carte di credito clonate venivano poi utilizzate per l'acquisto online di beni personali. Più frequentemente acquistavano schede di carburante sui siti internet di diversi gestori, utilizzandole poi per l'acquisto di migliaia di litri di gasolio per rivenderlo online a soggetti compiacenti con sconti fino al 50%. In altri casi ancora venivano acquistate ricariche telefoniche per migliaia di euro, poi utilizzate per chiamare un numero telefonico a pagamento, intestato ad una ditta denominata Happy Days, da cui prende il nome l'operazione, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Un posto presentato da un cittadino agropolese che poi è stato appieno coinvolto in questo tipo di indagine. Ovviamente attendiamo con ansia i risultati delle perquisizioni odierne. come vi accennavo il capitano Sannino, sono state sequestrate anche due pistole, oltre a tutto quello che avete sentito essere stato sequestrato. Questo eleva inevitabilmente il livello delinquenziale dei soggetti interessati, evidentemente perché siamo di fronte a soggetti che non solo tendevano a commettere illeciti a contenuto patrimoniale, ma tendevano anche in qualche modo evidentemente a difendere o forse a fare altro con le armi trovate in possesso. Non migliaia ovviamente di truffati, per quello che sappiamo in Italia è evidente che adesso dovremmo fare questo tipo di lavoro per cercare di recuperare, di capire, di individuare i soggetti truffati e quindi in qualche modo di consentire loro di costituirsi parte civile o comunque di contribuire alle indagini in qualche modo. Evidentemente avevano capito bene che potevano in qualche modo spaziare in vari settori, evidentemente hanno notevoli capacità nel fare questo, nell'ipotizzare questo e quindi c'era anche la possibilità di pagare cartelle esattoriali con uno sconto e di praticare uno sconto evidentemente tutto questo soltanto utilizzando il danaro illecitamente percepito. Ora cambiamo argomento, l'ospedale Luigi Curto di Polla da oggi ha una nuova cappella che sarà più accessibile a tutti grazie alla disponibilità e al sostegno della Fondazione Montepruno che vede insieme la Banca Montepruno, il Circolo Banca Montepruno e l'Associazione Montepruno Giovani uniti per individuare le necessità sociali del territorio e offrire sostegno attraverso la Fondazione. L'ospedale Luigi Curto di Polla, primo destinatario delle attività della Fondazione attraverso la realizzazione della nuova cappella, recuperando una sala dell'ospedale nei pressi del reparto di terapia intensiva. Questa mattina la cerimonia di benedizione con il trasferimento del Santissimo Sacramento dal terzo piano dell'ala antica dell'ospedale dove era precedentemente ubicata la cappella al piano terra. Ad ufficiare la celebrazione religiosa Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi dite Gianno Policastro, presente al taglio del nastro accanto al presidente della Fondazione Montepruno Michele Albanese e al direttore dell'ospedale Luigi Curto di Polla, il dottor Luigi Mandia. Vediamo. Questa mattina finalmente l'inaugurazione della cappella al piano terra nei pressi della terapia intensiva qui all'ospedale Luigi Curto di Polla. Un momento comunque importante anche perché dà speranza per un ospedale che sta cercando di rilanciarsi, lo sta facendo comunque con grande ottimismo, grande forza. Questa mattina la cerimonia è iniziata con la Santa Messa, ufficiata da Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi dite Gianno Policastro. La benedizione, dopodiché la cerimonia si è conclusa veramente con tanta emozione. Una cappella piccola ma comunque molto accogliente, dove è stato appunto portato il Santo Sacramento. Peraltro il vescovo Monsignor De Luca nel momento in cui, prima di congedarsi, ha ricordato come mancano soltanto le stazioni, le 14 stazioni della Via Crucis che chiunque volesse può donarle. Il trasferimento della cappella in questo luogo intanto la rende più accessibile, fruibile alle famiglie, agli ammalati, ma soprattutto permetterà all'amministrazione dell'ospedale di destinare gli spazi della precedente cappella ad altre urgenze e necessità che sul territorio sono state portate all'attenzione degli amministratori. Le attenzioni da parte delle istituzioni centrali e delle istituzioni regionali nei confronti delle nostre periferie vanno senz'altro sollecitate, consolidate, perché effettivamente da soli non possiamo rispondere alle rinnovate esigenze. E qui è il compito della politica che deve farsi carica di un'opera di coscientizzazione, ma soprattutto rendere vivo e presente l'azione di tutti in rapporto ai bisogni delle nostre popolazioni. Ho apprezzato che molti hanno convenuto con me che purtroppo è una realtà quella del campanilismo, dobbiamo smettere di parlare male dell'ospedale di Polla. Noi stessi siamo i primi denigratori di una struttura che dovrebbe funzionare. Cominciamo a vantare, cominciamo a dimostrare che ci sono delle eccellenze, ci sono delle eccellenze nei medici, ci sono delle eccellenze nelle strutture, medici che ci vengono invidiati da tanti, non so come, sicuramente ci sono reparti che sono all'avanguardia, quindi perché non parlare bene dell'ospedale di Polla. Questo ci servirebbe e ci serve quando gli altri parlano di sopprimere. Se noi dimostriamo con la capacità e con la forza di stare insieme che non si può sopprimere una qualcosa che funziona, beh io credo che abbiamo fatto il nostro dovere ed è questo su cui noi ci dobbiamo impegnare. Grazie alla Fondazione Montepruno, non solo per la cappella ma per l'impegno che ha messo per quanto riguarda l'acquisizione di moderni letti per la Stroke. Stroke è condizioni di trattamento per i pazienti che hanno ischemia di tipo cerebrale. Questo ci consente di fornire moderne terapie grazie alla Fondazione Montepruno per i televisioni che ha dato ad alcuni reparti. Il televisore consente come dire una condizione di ricovero sicuramente caratterizzata da maggiore agio e quindi per chi soffre è un momento di umanizzazione di un percorso che è giusto appunto quello di ricovero che spesso è un percorso difficile. Ora parliamo di sanità in campagna a piano di rientro dalla debito e sostituzione di Vincenzo De Luca nel ruolo di commissario. Sono i due temi che in questi giorni stanno tenendo banco tra esponenti locali e nazionali dei partiti della maggioranza giallo-verde. Lega e Movimento 5 Stelle non sono d'accordo su come muoversi ma vediamo i dettagli nel servizio. Lega e Movimento 5 Stelle non trovano la quadra sulla questione sanità in campagna. Oggi a Roma è il tavolo di verifica quadrimestrale del piano di rientro a cui prenderanno parte la Regione e i Ministeri della Salute e dell'Economia e durante il quale spetta a Vincenzo De Luca dimostrare di aver lavorato bene. Intanto nei giorni scorsi nulla è stato deciso in Consiglio dei Ministri circa la sostituzione del Governatore nel ruolo di commissario, sostituzione per cui stanno spingendo dal Movimento 5 Stelle ma su cui la Lega pare non essere d'accordo. C'è in queste ore un fuoco incrociato di dichiarazioni scatenato proprio dalle parole del leghista Massimo Garavaglia, Vice Ministro all'Economia con delega ai piani di rientro. Il MEF ha sostenuto che tecnicamente non ha più motivo di commissariare la sanità campana. Potrebbe arrivare quindi per De Luca non solo la certificazione di un bilancio della sanità in pareggio per il quinto anno consecutivo ma anche del superamento della sufficienza nella pagella 2018 dei LEA, arrivata a 163 punti. A livello nazionale non ci sta il Ministro della Salute Giulia Grillo e sconcertante e irrazionale dichiara la posizione del Vice Ministro Garavaglia, visto proprio che il Ministero dell'Economia mi ha inviato una lettera in cui chiede di concertare la nomina di commissario e subcommissario di Campania e Lazio. Non si comprendono, conclude, le ragioni di questo dietrofront. Delle due luna incalza la senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità. O Garavaglia non ha la contezza dello stato in cui verse il settore in Campania o dalla Lega è partito l'ordine di scuderia di tendere una mano a De Luca. Si prefigura un vergognoso inciucio, le fa eco Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che potrebbe sancire un possibile accordo in Campania tra il partito di Salvini e il governatore De Luca in vista delle regionali 2020. Pronta la replica del segretario della Lega in Campania Gianluca Cantalamessa. Ci deludono, dice, le irresponsabili illazioni di alcuni esponenti pentastellati su presunti accordi tra noi e il PD. Negli ultimi quattro anni sono stati rispettati i vincoli di bilancio. Se il dato è confermato non ci sarebbe necessità di commissariare De Luca. Altro discorso è la questione dei LEA. Non si stanno rispettando i minimi da vari anni. Valutiamo tutte le ipotesi, incluso il commissariamento delle singole strutture senza toccare le eccellenze. Non ci interessano, conclude le poltrone, ma la salute dei cittadini. E lunedì 15 aprile a Padula si parlerà di macro regione autonoma nel sud. Un'idea lanciata dal già presidente della regione Campania Stefano Caldoro e che oggi prende sempre più vigore in virtù anche della richiesta di autonomia presentata dalle regioni del nord. Alle 16.30 l'appuntamento promosso dal comitato referendario per la macro regione autonoma del sud che si terrà presso la certosa di San Lorenzo a Padula. Una macro regione autonoma del sud Italia è questo il progetto a cui si sta lavorando seguendo la linea lanciata alcuni anni fa da Stefano Caldoro, già presidente della regione Campania, oggi capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. Un progetto che ha preso maggior forza e vigore a seguito anche del processo di autonomia differenziata rivendicato dalle regioni del nord come Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. In questo contesto si inserisce l'idea di Stefano Caldoro per chiedere l'applicazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione italiana che regolano appunto la richiesta di particolari forme di autonomia. Il tema sarà dettagliatamente approfondito lunedì 15 aprile alle ore 16.30 presso l'aula delle conferenze della certosa di San Lorenzo a Padula in un incontro a cui prenderà parte anche Stefano Caldoro, promotore del progetto di istituzione della macro regione autonoma del sud. Le difficoltà per le regioni del sud di riuscire a difendere gli interessi delle comunità locali se paragonate alle più vaste regioni del nord Italia, un sistema di burocrazia sfissiante per le regioni meridionali che incontrano poi serie difficoltà nel riuscire ad utilizzare i fondi europei a causa delle lunghe attese per ottenere le diverse valutazioni ed autorizzazioni ai progetti, ancor più in un contesto dove le posizioni autonomistiche delle regioni del nord rendono necessario un approccio più deciso da parte del mezzogiorno che non può più restare fermo e necessita di un'azione decisa delle proprie regioni a difesa degli interessi delle comunità del sud. Questi ed altri saranno i temi approfonditi durante l'incontro promosso da Pierluigi Gallo, membro del consiglio referendario della provincia di Salerno per la macro regione autonoma del sud e moderato dal giornalista Gaetano Amatruda. All'incontro, che si aprirà con i saluti del sindaco di Padula Paolo Imparato, sono previsti gli interventi dell'assessore del comune di Polla Maria Citarella, di Giovanni Iorio, consigliere comunale di Campagna, del sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio, del presidente dell'associazione imprenditori Vallo di Diano Valentino Di Brizzi. Le conclusioni saranno affidate ai consiglieri regionali Carmine Mocerino e Stefano Caldoro, promotore del progetto. E in tema di DAT, disposizioni anticipate di trattamento, sono diversi i comuni del Vallo di Diano che si sono impegnati per la realizzazione del registro comunale. Tra questi c'è anche il comune di Monte San Giacomo. I dettagli. Se è vero che molti comuni della campagna mancano i registri per i cittadini che desiderano lasciare un testamento biologico e l'unico modo è quello di rivolgersi ad un notaio con le relative spese, è accertato che il territorio del Vallo di Diano è stato tra i primi ad impegnarsi per la loro attivazione. Le DAT sono state introdotte nel nostro ordinamento con la legge 219 del 2017, la cosiddetta legge sul testamento biologico. E sono quelle volontà che ogni persona maggiorenne è capace di intendere e volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, può esprimere in materia di trattamenti sanitari, ad esempio l'amniocentesi o le trasfusioni di sangue o l'idratazione e la nutrizione artificiale. Le DAT vengono redatte in previsione di una possibile futura incapacità di autodeterminarsi. La legge in Italia è stata approvata anche grazie al costante lavoro svolto negli anni dall'Associazione Luca Coscioni, impegnata nella promozione della libertà di ricerca scientifica, di cura e le altre libertà civili e nell'affermazione del diritto alla scienza e all'autodeterminazione individuale. Nel Vallo di Diano anche il comune di Monte San Giacomo, retto dal sindaco Raffaele Accetta, ha dimostrato una grande sensibilità verso queste tematiche, tanto che già nel settembre del 2018 ha deliberato in materia di disposizioni anticipate di trattamento, approvando le modalità operative di ricevimento e registrazione delle DAT. Oltre al comune di Monte San Giacomo, i registri per le DAT sono stati attivati nei comuni di Sala Consilina, Teggiano, Atena Lucana, Padula e Sassano. Un atto dovuto per il sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta. Anche noi a settembre del 2018 abbiamo con delibera di giunta istituito il registro per il testamento biologico e riteniamo che sia un atto dovuto e che abbiamo voluto mettere a disposizione eventuali cittadini che ne volessero fare uso. Però fino ad oggi non vi è stato nessuno che lo ha richiesto e quindi in parte siamo anche soddisfatti per questo. Però se dovesse servire questo registro c'è a Monte San Giacomo. Ora parliamo del reddito di cittadinanza. Arrivano i primi dati relativi alle domande proprio per il reddito di cittadinanza in Campania. Indicazioni importanti anche per quanto riguarda il territorio del Vallo di Diano. Vediamo. Arrivano i primi dati relativi alle domande per il reddito di cittadinanza. Informazioni interessanti e significative arrivano dalla Campania, prima regione italiana per numero di richieste. I dati sono stati comunicati dall'Inps e sono aggiornati al 5 aprile. A grandi linee dunque il quadro sembrerebbe già delineato. Per quanto riguarda la provincia di Salerno, il primo mese di reddito di cittadinanza ha riservato non poche sorprese. Il maggior numero di richieste è pervenuto presso la sede Inps di Noceana Inferiore. 5056 invece quelle arrivate a Salerno a seguire Battipaglia, Agropoli e Sala Consilina, con quest'ultima che rappresenta il Vallo di Diano al quinto posto assoluto di questa particolare classifica relativa al Salernitano. Tra le regioni, come già accennato, la Campania è prima con 137.206 domande. A completare il podio ci sono Sicilia, Lazio e Puglia. Tra le modalità scelte per presentare stanze, i campani privilegiano i caffa e gli sportelli delle poste. In entrambi i casi sono le donne a prevalere nelle richieste. A livello nazionale, sino a questo momento, sono in totale 806.878 le domande presentate per il reddito di cittadinanza. Predomina la fascia d'età compresa tra i 40 e 67 anni, mentre la seconda più nutrita è fra i 25 e i 40 anni. Ora cambiamo argomento. Questa sera nuova puntata di Angolo Cusati, ospite del conduttore e ideatore del programma Pietro Cusati. Nell'appuntamento di questa sera delle 20 e 30, subito dopo il nostro Tg serale, saranno il dottor Claudio Mondelli, direttore responsabile del distretto sanitario 72, sala Consilina Polla, e l'avvocato Francesco Cavallone, sindaco di sala Consilina e presidente del comitato dei sindaci del distretto sanitario 72. Insieme ai suoi ospiti, Pietro Cusati affronterà temi legati alla salute e in particolare alla prevenzione. Nel corso della puntata in onda questa sera si parlerà di cosa fare per la prevenzione, differenza tra prevenzione primaria e secondaria, più medicina preventiva, meno rischi e più salute e come prevenire sia meglio che curare. Inoltre si parlerà anche di assistenza domiciliare integrata, l'importanza degli screening di massa, la presa in carico del paziente, la promozione della salute nelle scuole. Non perdete quindi questo appuntamento, stasera subito dopo il nostro Tg dalle 19.45 di Angolo Cusati per approfondire i temi legati alla salute e alla prevenzione. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a tra poco. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg Formazione per i giovani. La Giunta regionale campana approva nuovi percorsi formativi per gli studenti. Vediamo di cosa si tratta. Una buona notizia per gli studenti campani. La Giunta regionale infatti ha approvato il finanziamento di nuovi percorsi formativi volte ad orientare i giovani alle professioni con una dotazione di circa 1,1 milioni di euro. A breve si procederà alla seconda edizione di un progetto sperimentale che ha già riscosso molto successo. Tutto merito della proficua collaborazione tra università, ordini professionali ed associazioni di professionisti che consentiranno a tanti ragazzi e ragazze un'opportunità unica ovvero quella di avvicinarsi ad un settore importante, le libere professioni grazie ad una costruttiva esperienza di tirocini retribuiti finalizzato all'orientamento professionale. Parliamo in concreto di un'alternanza università al lavoro a tutti gli effetti che metterà alla prova sul campo le conoscenze acquisite negli anni di studio, così da inquadrare il settore lavorativo che si intraprenderà successivamente. Un progetto di ampio respiro che coinvolgerà tanti studenti e studentesse, più di 400 circa, che darà una mano importante in chiave di formazione tecnico-pratica. L'auspicio è quello di ripetere il grande successo della prima edizione mettendo a fuoco gli aspetti organizzativi da migliorare in chiave futura, offrendo servizi sempre più qualificati alle nuove generazioni. Diffondere tra i disabili la buona lettura e la cultura, questa è la mission del libro parlato Lions, che distribuisce gratuitamente e in prestito libri registrati a viva voce da volontari, un supporto di grande utilità per chi soffre di un handicap fisico o psichico, che ci viene illustrato da Angela Liguori, iscritta al Lions Club Eboli Battipaglia Ost e incaricata a promuovere questo servizio in campagna. Vediamo. Io ho ricevuto dal governatore del distretto 108Y, Paolo Gattola, l'incarico di far conoscere il libro parlato Lions. Perché le persone che sono interessate ne possono usufruire? In anteprima io dico che il libro parlato Lions è assolutamente gratuito e la cieca Helen Keller nella convention del 1925 definiva noi Lions i cavalieri della luce per i non vedenti, per tutti i servizi che i Lions offrono ai non vedenti. Che cos'è? Voglio dire anzitutto che cos'è il libro parlato. Il libro parlato Lions non è altro che la registrazione di poesie, di libri, di libri di storia su dei cd in formato mp3 e possono essere ascoltati utilizzando un qualsiasi lettore portatile mp3 su tablet, smartphone compresi e ascoltati in streaming. Il libro parlato Lions ha un catalogo di ben 9.000 volumi, anche in lingua straniera. E chi sono quelli che leggono? Sono dei lettori, sono dei volontari. Fino ad oggi sono 157. Gli utenti del libro parlato, che è nato nel 1975 per iniziativa del Lions Club di Verbania, seguito poi da quello di Milano e quello di Chiavari. Chi sono gli utenti? Gli utenti sono essenzialmente i ciechi e gli ipovedenti. Poi la categoria si è allargata, perché le richieste erano moltissime. Quindi si è stesso il libro parlato anche alle categorie tipo i dislessici, gli autistici, gli ammalati di SLA e tutti quelli che sono in disabilità, anche momentanea, anche quelli che sono in ospedale, i quali in questi momenti di tristezza, in questi momenti anche di noia, possono ascoltare un libro parlato, un libro che ci possa dare, perché la lettura ci fa compagnia, perché la lettura aiuta, aiuta la nostra mente, la mantiene in attività, perché la lettura ci fa vivere dei momenti di tristezza e di gioia, a seconda della partecipazione e di ciò che viene narrato. Il progetto del libro parlato coinvolge anche le biblioteche, che coinvolge gli enti, coinvolge molte altre strutture, perché si può fare in queste strutture una convenzione tra, faccio un esempio, una biblioteca e il gestore del libro parlato. Ci sono dei costi e questi costi vengono sostenuti dai Lions. Il libro parlato Lions, ripeto, è nato perché il nostro motto, we serve, è quello di servire, di essere utili agli altri. E nuovo appuntamento culturale domani a Polla all'Ex Libris Café, con la presentazione del libro Nella testa di Antonio Infantino, un viaggio multidimensionale col genio di tricarico, scritto dalla giornalista lucano Walter De Stradis. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Proseguono a Polla gli appuntamenti culturali organizzati presso la libreria Ex Libris Café di Michele Gentile. Domani, venerdì 12 aprile, dalle 19, si terrà la presentazione del libro Nella testa di Antonio Infantino, un viaggio multidimensionale col genio di tricarico, scritto dalla giornalista lucano Walter De Stradis, con la presenza dell'autore, dell'editore Franco Villani e del musicista di Polla Giovanni Di Donato. Un apprezzato lavoro sul geniale musicista infantino appartenente al mondo della world music, che nella metà degli anni settanta fondò il noto gruppo di musica popolare I Tarantolati di Tricarico, e che purtroppo è venuto a mancare nel gennaio del 2018. Nel testo De Stradis trazza un'ampia biografia del poliedrico artista, presentando anche una lunga intervista, oltre che varie interessanti testimonianze, come quelle di Eugenio Bennato, dei 99 posse, e di Teresa De Sio. Antonio Infantino è tra gli idoli e i maestri di molti folk singer e gruppi tradizionali lucani, ha ispirato tanti artisti ed è tra i personaggi musicali più intensi e complicati che la Basilicata abbia avuto negli ultimi decenni. Nella biografia di De Stradis, con la prefazione di Giovanni Caserta, sono raccontate la musica e la filosofia del pensatore lucano, che ha recuperato e diffuso la tradizione della Taranta in Basilicata, nel volume l'autore presenta Infantino, non come un semplice artista folk, ma come colui che ha creato un movimento vero e proprio, anticipando tante cose. Viaggiatore, filosofo, oltre che musicista, poeta e cantante, hanno scritto di lui importanti testate nazionali, ha collaborato con artisti di grande spessore culturale, come Dario Fo, e nel libro non è mancato l'omaggio del campione mondiale lucano di ukulele, Danilo Vignola, che ha illustrato la copertina. Ora parliamo della Via Crucis. Per il secondo anno consecutivo torna a Sant'Arsenio la Via Crucis vivente, organizzata dalla parrocchia, dal comune, dalla proloco, dalla compagnia teatrale di Sant'Arsenio, ieri, oggi e domani, e dal gruppo comunale dei volontari della protezione civile. La manifestazione si terrà nel giorno della Domenica delle Palme nella Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore. I dettagli. La Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore a Sant'Arsenio, domenica prossima, a partire dalle ore 19, farà da sfondo suggestivo alla Via Crucis vivente, la manifestazione storico-religiosa organizzata per il secondo anno consecutivo dalla parrocchia, dal comune, dalla proloco, dalla compagnia teatrale Sant'Arsenio, ieri, oggi e domani, e dal gruppo comunale dei volontari della protezione civile. In occasione della Settimana Santa, nel giorno della Domenica delle Palme, torna a Sant'Arsenio un evento molto atteso dalla comunità che lo scorso anno ha partecipato numerosa. Devoti e non si raccolgono intorno ad un'occasione d'incontro, che per i fedeli è un momento di preghiera e di meditazione, per i curiosi è la rappresentazione teatrale di un evento storico e religioso che ricostruisce gli attimi finali, le ultime ore dell'esperienza terrena di Gesù. Quest'anno saranno presenti circa 80 figuranti in costume per dar vita alla rievocazione della Passione di Cristo sotto la direzione artistica di Luigi Biscotti e Franco Antonazzo. Tante le novità assicurano gli organizzatori, nuove scene, nuovi effetti audio e luci, e poi l'interpretazione, i costumi, i dialoghi renderanno autentici e commoventi i momenti della Passione, della Morte e della Resurrezione di Gesù, che sono quelli culminanti della Pasqua. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Continuate a restare con noi e a tutti un'ottima serata.